Santa Caterina da Genova Figlia di Giacomo Fieschi, vicerei di Napoli sotto Renato D'Angiò, nacque a Genova nel 1447. A 13 anni, profondamente commossa dalla passione di Cristo, prese il velo come la sorella Limbania. A 16 anni, i suoi la sposarono col nobile Ghibellino Giuliano Adorno, uomo violento, superficiale e dissoluto. Nel 1474, suo marito perse tutto il patrimonio e Caterina lo convinse a cambiare stile di vita e a diventare francescano. Per assistere i bisognosi col marito, si trasferì nell'ospedale di Pammatone, dove rimase fino alla morte nel 1510. E protettrice delle donne sposate male, degli ospedali, delle infermiere italiane di Genova e della Liguria.